a napoli napoli 1 cesena 2 al dodicesimo segna garlini alla tredicesimo seconda rete del cesena di schackner e al ventiduesimo per il napoli segna pellegrini angoli tre per parte 60 mila gli spettatori non è messa perdendo con cesena a napoli attenzione ameri qui è lo studio a napoli terzo minuto situazione di parità il napoli ha pareggiato con pellegrini